L'incidente avvenuto ieri mattina a Teramo dove due bambini di 10 e 11 anni sono rimasti feriti alle gambe da un grosso masso all'interno del teatro romano durante un'uscita didattica con la scuola accende i riflettori sulla sicurezza all'interno del sito archeologico. Questo anche se, come dichiarato l'amministrazione comunale, l'area in questione non è accessibile né aperta al pubblico ed è possibile entrare solo con l'autorizzazione del comune e con la guida del personale del polo museale. Circostanze queste che ieri c'erano ma l'ingresso della classe sarebbe avvenuto prima dell'arrivo della guida. Il cancello era stato lasciato aperto dagli operatori della Teramo Ambiente che stavano eseguendo lavori di sfalcio. Ma intanto diamo la notizia positiva, insomma che i bambini stanno bene, hanno avuto questo infortunio che ovviamente non doveva avvenire e sta chiarendo anche un po' la modalità ma ci sono le verifiche in corso e a loro va il messaggio più importante, le loro famiglie e quindi questo ci fa da un lato tirare un sospiro di sollievo, dall'altro però non sottovalutare quello che è successo perché deve essere un monito. L'accesso sull'area del teatro romano, del sito archeologico, non era consentita senza la presenza di un addetto comunale all'uopo dedicato così come da sempre e come da intesa anche in relazione al progetto. Quindi questo è chiaro e così sarà anche per il futuro. Certo, è un monito che deve portare tutti ad alzare la soglia di attenzione ed evitare comportamenti imprudenti. Dopodiché, insomma, resta questa linea sul sito archeologico del teatro romano così come su tutti gli altri siti archeologici. Non si entra senza autorizzazione e senza assistenza. Ricordiamo, tra l'altro, un passaggio che il sito non è al momento un cantiere, nel senso che il cantiere della demolizione è finito, è recintato, è chiusa l'area su cui si è intervenuto con la demolizione dei due palazzi. Da qui a breve partiremo con la seconda fase, quella della rifunzionalizzazione, che ci consentirà appunto di riqualificare il teatro. Il rispetto delle norme di sicurezza deve essere fermo, deve valere per tutti e ribadiamo questo principio. Non si accede senza autorizzazione o assistenza.